Lo facciamo insieme al nostro ospite, benvenuto a Patrizio Zucca, Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. Bentornato anzi al città del 56. Grazie, buonasera a voi. E allora con lei volevamo fare il punto sugli alberi che caratterizzano la nostra città, ovvero sia il pino domestico, così detto, che è cresciuto insieme a Roma e addirittura lo ritroviamo dai tempi degli antichi romani. Sì, beh, è una pianta che caratterizza ormai Roma, molti la definiscono il pino romano, viene definito così. È una pianta che in effetti le notizie storiche che abbiamo ci dicono che è stato diffuso fortemente già dagli antichi romani se non prima dagli etruschi. Non è una pianta che precedentemente trovava questa quindi diffusione. La sua diffusione è stata poi successivamente aumentata nel corso dei secoli, prima dalla Camera Apostolica, dal Vaticano, negli ultimi tempi dal fascismo. Veniva considerata una pianta un po' simbolo della romanità e quindi è stato molto diffuso. Adesso è estremamente presente, sia in città che fuori, con formazioni anche importanti, Castelfusano, Castelforsiano e tante altre pini delitorane. Adesso però esiste anche un problema di senescenza dei pini, è così? Beh, questo è un problema che caratterizza tutte le piante, sono organi biologici e hanno una fase, come tutti gli organi biologici, di crescita e poi di deperienza. Nella Roma in particolare, spesso e volentieri, purtroppo anche le condizioni in cui si trovano a vegetare non ne favoriscono certamente, non sempre, ma spesso il mantenimento. bisogna entrare, secondo me, in una logica che è quella della normale, del normale periodico cambiamento, insomma. Occorrerà pensare al reimpianto di quelle alberature che sono ormai diventate o in fase di senescenza o comunque per quegli altri motivi pericolanti. Presidente, però, in che modo si può tutelare questo patrimonio paesaggistico della nostra città? Penso anche, ad esempio, al discorso delle sostituzioni, ovviamente. Ultimamente il Comune di Roma ha messo in piedi, dopo l'approvazione del Regolamento del Verde che si aspettava da tanto tempo, ha messo in piedi una serie di tavoli tecnici all'interno dei quali noi eravamo presenti, insieme a università e istituti di ricerca e tutti sono stati concordi nel dire che il primo modo di approcciarsi al problema della gestione è quello della conoscenza. Quindi, in effetti, la prima cosa che occorrerà fare è il censimento puntuale, per quanto possibile, degli alberi che sono presenti non solo dei pini, ma degli alberi che sono presenti nella nostra città. Dopodiché, naturalmente, il monitoraggio dovrà essere continuo, come di fatto si fa in qualsiasi altra metropoli del mondo. Grazie, grazie Presidente. Grazie. Torneremo comunque presto a fare il punto, insomma, sugli alberi della nostra città, degli alberi, ovviamente, di Roma. Grazie. Grazie. Grazie.